Maschere alla maionese per far risplendere i capelli. Esistono diverse tipologie di maschere per la bellezza dei capelli, ma quelle a base di maionese sono particolarmente indicate in quanto soddisfano i bisogni di tutti i tipi di capelli. Oggi vi proponiamo alcune ricette per prepararle in casa. Prenderci cura della nostra chioma non richiede solo del tempo a disposizione, ma anche una certa dose di creatività. In nostro soccorso arrivano le maschere alla maionese che ravvivano i capelli, danneggiati quotidianamente dall'azione di diversi agenti esterni. Una chioma trascurata appare opaca e priva di lucentezza, perché necessita di idratazione. Anche se sul mercato sono diverse le opzioni di maschere alla maionese, queste ultime potrebbero risultare parecchio costose. Per evitare costi eccessivi, l'alternativa è preparare in casa la vostra maschera a base di maionese. Prendete carta e penna e non esitate a provare voi stessi queste maschere. Non dovrete fare altro che scegliere la vostra preferita e applicarla con costanza. 1. Maschera alla maionese e all'uovo super nutriente L'applicazione di questa maschera alla maionese e all'uovo è consigliata in caso di cute particolarmente secca. Consigliamo di lasciarla agire per diverse ore e preferibilmente durante la notte, per ottimizzare i risultati. Andiamo a vedere quali sono i benefici di questa maschera. Dona lucentezza e vitalità ai capelli. Combatte la secchezza cutanea nutriendo il cuoio capelluto. L'uovo contiene antiossidanti e proteine che rinforzano il capello dalla radice. Utilizzando questa maschera con regolarità, i capelli saranno più districabili. Ingredienti 1 uovo intero. 3 cucchiai di maionese. 6 gocce di limone. Preparazione Ne sbattete le uova fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungete limone e maionese, mentre continuate a mescolare energicamente. Dividete i capelli in ciocche e quando gli ingredienti saranno ben amalgamati, applicate la maschera con l'aiuto di un pennellino. Lasciate agire per 15 minuti. Risciacquate con acqua calda. 2. Maschera alla maionese e alla vitamina E per la lucentezza dei capelli Questa maschera alla maionese e alla vitamina E è ottima per donare lucentezza e setosità ai capelli, dato che li nutre dalle radici alle punte. L'azione idratante agisce in profondità, per cui questo rimedio è l'ideale per i capelli secchi o con forfora. La vitamina E è un potente antiossidante che riduce la caduta dei capelli. Vi consigliamo di applicare questa maschera almeno una volta al mese se i vostri capelli sono secchi ed evitarla del tutto se sono grassi. Ingredienti 1 albume per capelli lunghi fino alle spalle. 1 cucchiaino di vitamina E oppure 3 pillole di vitamina E. 2 cucchiai di maionese. 1 cucchiaino di aceto. Preparazione Aggiungete gli ingredienti uno ad uno, mescolando energicamente con un cucchiaio di legno. Fate riscaldare la maionese a fiamma bassa fino a quando i bordi non appariranno più chiari. Applicate dall'alto al basso, con l'aiuto di un pettine o di un pennello per capelli, fino alle punte. Lasciate agire per 25 minuti. Risciacquate con acqua da tiepida a calda. 3. Maschera alla maionese. Si tratta della versione più facile da preparare tra tutte le maschere alla maionese per capelli e consiste nell'utilizzare la maionese al naturale, con l'aggiunta di qualche goccia di limone. La maionese apporta, di per sé, i seguenti benefici. Nutre il cuoio capelluto. Previene la secchezza causata da funghi, che a loro volta provocano la forfora. Esalta la lucentezza naturale dei capelli. È facile da reperire, senza per forza doverla preparare in casa. Ingredienti 1-2 tazza di maionese. Succo di mezzo limone. Preparazione Fate riscaldare la maionese. Aggiungete il succo di mezzo limone. Mescolate. Applicate sui capelli umidi. Lasciate agire per 15 minuti prima di risciacquare. 4. Maschera alla maionese, uova e caffè Il mix di caffè, maionese e uova funziona perfettamente in caso di capelli secchi o con forfora. Utilizzate questa opzione se i vostri bulbi capillari sono infiammati, in quanto la caffeina stimola la circolazione sanguigna. Ingredienti 1-2 tazza di maionese. 1 uovo. 2 cucchiai di caffè solubile. Preparazione Sbattete l'uovo e aggiungetelo poco a poco alla maionese. Mescolate bene e aggiungete, quindi, il caffè. Applicate la maschera dalle radici alle punte, massaggiando dolcemente il cuoio capelluto. Una volta ricoperto del tutto il cuoio capelluto con la maschera, lasciate agire per tutta la notte. Lavate il mattino seguente con dell'acqua fredda e con dello shampoo senza solfati. Applicate questa maschera due volte a settimana fino a completa scomparsa della forfora. Potete applicarla una volta a settimana, in base ai risultati che noterete. 5. Maschera alla maionese e alle fragole per capelli grassi Avete i capelli troppo grassi? Sebbene la maggior parte delle maschere alla maionese siano idratanti, evitate di applicare le maschere precedentemente descritte se il vostro obiettivo è controllare l'eccesso di sebo sul capello. Per fortuna, anche voi potete sfruttare le proprietà della maionese, ma avrete bisogno, nel vostro caso, di un ingrediente che apporti acidità. A questo proposito, possiamo utilizzare le fragole. Questi frutti permettono una pulizia profonda che depura i bulbi piliferi. Il risultato saranno capelli più sani, forti, puliti e con un pH equilibrato. Ingredienti 3 cucchiai di maionese 10 fragole di media dimensione Preparazione Schiacciate le fragole in un mortaio oppure frullatele. Aggiungete della maionese e mescolate per bene. Applicatene un po' sui capelli secchi, iniziando dalla radice e terminando sulle punte. Lasciate agire per 20 minuti. Risciacquate con acqua fredda. Quale di queste maschere vi piacerebbe provare? Ricordate che l'unica cosa da tenere in conto per scegliere è capire se i vostri capelli sono grassi o secchi. Se sono grassi, non esitate a testare l'ultima maschera. Per quanto riguarda le altre, l'ideale sarebbe applicarle due volte al mese e solo sulle punte.